E intanto il Comites San Marino si rivolge all'Italia e lancia una petizione per richiedere la restituzione della cittadinanza italiana a chi l'ha persa. La cittadinanza è di certo uno dei temi più ricorrenti nell'azione portata avanti dal Comites San Marino. Questa volta si chiede allo Stato italiano di intervenire rapidamente per riformare la legge in materia, introducendo da un lato il divieto di rinuncia e dall'altro il riacquisto della cittadinanza di origine da parte di chi in precedenza la possedeva e che l'ha persa per ottenere quella per naturalizzazione, proprio per effetto delle leggi vigenti nel paese di residenza. Un classico caso di perdita della cittadinanza lo si ha purtroppo a San Marino, quando un cittadino italiano residente a San Marino per acquisire la cittadinanza sanmarinese per naturalizzazione deve rinunciare alla cittadinanza di origine, quindi a quella italiana. Secondo noi la cittadinanza è un diritto irrinunciabile e quindi per questo chiediamo allo Stato di restituire la cittadinanza a chi l'ha persa. La materia della cittadinanza in Italia è disciplinata dalla legge 91 e 92 che già prevedeva il diritto di riacquisto della cittadinanza italiana che poteva essere richiesto entro due anni dall'entrata in vigore della legge del 92. Quindi noi con questa petizione sostanzialmente chiediamo una riapertura dei termini. Sul sito www.sanmarinocomites.org è già possibile scaricare i moduli della petizione da sottoscrivere. L'auspicio è di una massiccia partecipazione. Per il presidente Comites Diego Renzi il prosiegue di una battaglia iniziata da almeno 10 anni, spiega, per affermare che anche le donne trasmettessero la cittadinanza.